Possiamo continuare con Beast Quest. Allora, io devo imparare a schivare. Aspetta, no. Ok. Ok. No, non credo sia... No, non sono... Devo imparare a schivare. Ok. Non ho preso nessun bonus. Perché io non so... Io non so schivare. E può essere un problema. Perché uno dei trofei esegui 50 schivate perfette. Quindi. Aspetta. No. Ok. Ok. No. Però una dovrebbe l'ha fatta, no? Ok. Ok. Una. Schivata, ottima. Va bene. Sì. Ok. Ok. Allora. Chiave. Fammi vedere... Allora, è una stronzata. Posso... Mh... Ho pensato fosse un mezzo enigma, no? È proprio una puttanata. Va bene. Ok. 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 Allora, con i ragni devo schivare. Quindi. Ok. Poi. Ahia, no. Va bene. Io... Mi accontento di... Mi accontento. Però tipo le statistiche. Battaglia... Abilità, eh, riducere difese, sì, missioni, va bene, battaglia, attrezzatura, inventare, ah no, vabbè, che poi alla fine è tutto lì, ok, prendiamo le chiavi perché tornano sempre utili e andiamo avanti. Alla fine, Tom è un amico. Um, Eleanor? Tom, vorrei che ti metti a mio buon amico, Silver. Amico? Non sembrava molto amico. Questa cosa era solo un misurazione, non c'è, ragazzi? Se lo dico. Silver pensava che mi era proteggere, e ora che sappia che siamo amici, potrebbe proteggere te anche. Sì, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ho trovato il amico suporto suporto e ho tornato a fare l'arrivare. Abbiamo avuto le mie amici. Abbiamo avuto l'arrivare, è piacere che ti metti, Silver. Tom, sembra che il passaggio è andato così. Silver non può ascoltare, ma magari tu puoi. Ehi cucciolo, va bene Ah, posso arrampicarmi? Ok Questa mi è nuova Non ne avevo la più pallida idea Però ok, va bene Ok Chiave d'oro? Ok, allora Ok Ok Allora Ok Non sto quasi più vendo scrigni Se non uno che ora abbiamo davanti Chiave di bronzo, vieni qui Ok Falò Ok Ok Ma deve rimanere per forza la scritta salvaferno E non può Non può non esserci Non è bellissima Allora Allora Ok Perfetto Ok Ok Bisogna un attimo far tonneggiare le mosse Però non dovrebbe essere troppo complesso Mi chiamare Mi chiamare l'ho detto Ok Ok No, ho sbagliato l'altro Ok 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 Andato Ho avuto Ho avuto una buona dose di culo Perché Perché ho avuto culo Inutile negarlo Morirò Sento In acqua Ok No Ho preso di me Dove che Di sì Nel senso Che ci possa rimettere la pelle Ma E infatti Noi Per sicurezza Non tocchiamo il fiume Non ne vedo la necessità Stiamo bene così Ok Che chiave è la chiave di bronzo I colori sono particolari Ok Ah Vi vedete Ok Dovrei avere una chiave Per poterlo aprire Ok Va bene amico Allora Vediamo la mappa Va bene Allora Giustamente Posso fare I viaggi rapidi Allora No Abilità Ne ho 28 Che cosa posso fare Aumenta di poco La differa di tom Allora Facciamo questo E questo Ok Credo di dovevo andare di qua Esatto Let's go Feb no Ok Aia No No Aia Ok Aia Ok Aia Doveve mai fai Schivarlo Ok 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 ahia andato Cioè? Sono finito? Ho sbagliato? Non so bene che cosa sia successo, però ho paura di aver sbagliato qualcosa, va bene, ok, ma perché? Ma io l'ho schivato! Ok, niente, non ho fatto nulla di suo combattimento. Allora, però ho ricevuto una porzione curativa che non si butta via, ecco. Allora... Ahia! Ok... Ok... Benissimo! Ok... Via! Ok... Utilizziamo questo. Ok... Ok... Volevo in realtà... Ok... 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 Ahia! No, no, no... Ok... 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 Due forzioni curative Va bene Cassa d'oro Ok Guanti del ladro Cosa sono i guanti del ladro? Percatore di tesori Allora Blocca dieci forzioni di bronzo Ah vabbè ok Eh ho questi ok Il casino Questi tre Allora Dove bisogna andare? Di qua Cioè Quindi di qua Ma di là non c'è niente Ciccio non c'è nulla Lì Qui posso andare Ok No Ti prego Ah ok Minchia ma io non ho vita Ok Ok No 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 Ok Ottimo Si vabbè è completamente rotto Però il Il tomtom Ops Ok Però si è sentito eh Il suono Ok Dai cazzo Oh Oh Ora Ragno 1 No Nulla Non lo fa più Allora Ma o diventi rosso Oppure Io devo capire Quando posso effettivamente Schivare Perché Ma perché no Perché cazzo Non lo fai Oh Non so più cosa fare Allora Ok Ci sono Un occhio di bronzo Ho finito le chiavi Ho quattro chiavi di ferro E due chiavi d'oro Potrei aver finito le chiavi Sì Mi sta dicendo di andare lì Ok Quello è Allora Allora No Non gli è piaciuto Come scrivata perfetta Nemmeno questa Perché Non so perché Non l'ho fatta in tempo Oh Questa si Gli è piaciuta Benissimo Almeno una Tu sei di bronzo Poi Allora Ok Ok No Che palle Ci mette una vita Aspetta per Aspetta No Non funziona La schirata Perdonatemi Ok No Devo farne una perfetta E Rompe il cazzo Lo so No 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 Non gli è piaciuta Oh Questa si Ce l'ho fatta Ora che Ne ho la possibilità Devo cercare di farne Almeno una scontro Cioè Ora che Nella possibilità Ora che Questi scontri Non sono così Impossibili Devo Devo Cercare di farne Quante più Possibili E ci sta Obiettivo Platino Non tutta Non tutti Non tutta la serie Sarà incertata Sul platino Anche perché Non è fattibile Perché sono Devo fare tutte le Side quest E le faccio Per conto mio E le faccio Verimentare Non mi sono Non mi sono Ci sono Lo vedo, il dragone. No nessuno crede a me, ma lo vedo. Lo credo a te. Sì, vai a combattere? Tu sei un signore, non ti? Eh, sì. Sir Tom, a vostro servizio. Grazie a te conoscere, Sir Tom. Sono Ciara. Onde hai visto il dragone? Lo vedo in la foresta, pasto il rio di rio, comando i nostri freddici. E ora siamo freddici. Allora, dove siamo? Non si sa. Va bene. Allora, tu è in bronzo. Sì. Quante ne ho? Ogni ho una di fare per due d'oro. Ok. Allora, intanto prendiamo un'altra. Qui c'è un'altra chiave. Su? Dov'è quell'altra chiave? Avviso di taglia, cioè? Eh, no, aspetta. Non ora. Eh, ora. Volevo la mappa, che però è verso il menu di pausa. Ok. Quindi è qua che siamo. Ok. Io volevo le chiavi. Allora, una esterna al villaggio. Almeno così pare, ma... Questa... Questa... C'è una... Una qui su... Ovviamente no. Niente, non troveremo mai una chiave. Oh, eccola. Ho ottenuto un'altra chiave di ferro. Ed ecco... Un'altra chiave di ferro. Fantastico. Let's go. Dove però? Tanto qui c'è un barile. I barili sono molto utili, perché danno diverse ricompense. Ci serve la chiave di bronzo. Quindi questo è quello... Ok. Ok. Alla fine mi sa che... Solo le side questers... Sono quelle che mi farò... Che mi farò per conto mio. Tipo io non capisco come faccia a non essere i tuoi fii comuni. Cioè, li trovi veramente ovunque. Perché non dovesti aprirli? Ok. Otteniamo una cosa perfetta. Ok. Perfetto. Qui ne abbiamo altro. Ok. Ok. Allora. No, 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 no. Non fare bug... Cioè, non bugarti in maniera ambigua. Allora. Non sembra nemmeno un malissimo gioco, tra l'altro. Cioè... Sento di aver giocato cose peggiori. E sento che l'Each Don't Battle Meal sia una di quelle cose peggiori. Gli fa fuori tutti in un colpo solo. Perfetto. Ok. Ora, vediamo le abilità. Perché ne ho 30. Quindi. Che cosa possiamo sbloccare? Questo. Allora, noi sblocchiamo questa. E i danni, direi. Sì. Ok. Perfetto. Lì c'è anche altra gente. Aspetta, io dove devo andare? Andiamo qua. La chiave l'ho presa? Sì. Ok. Dai, su. Perfetto. Ci sono magari anche qui un po' troppi scontri. Come in Leach Don't Battle Meal. Però... Si affrontano velocemente. Quindi... Va tutto bene alla fine. Allora. Il problema... Sono le fasi platformiche. Perché... Non ho mai la sicurezza di quello che faccio. Quindi io... Diciamo che ho sempre paura. Però... Mi ha detto... Però... Non sembra nemmeno così osceno come pensassi. Lo so... Io me lo spettaccio veramente una ma... Oh, poi magari lo diventano... Nel senso... Io ho anche il... Che cazzo è quella roba lì? Io ho anche il presentimento che il gioco sia finito. Nel senso... Ho già visto tutto quello che ha da offrirmi. Però... Vediamo un po'. Tu come ti comporti? Ok... 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 Quindi... Aia... Ok... Aia, no! Via! Ok... Ma perché non lo fai? Ma... No! Oh, non gli piace la schivata... Non gli piace la schivata più bene. Oia! Voglio... Voglio farlo! Ma che cazzo? Come funziona la schivata? Perdonate... No, dovevi farvi prendere adesso? Come funziona la schivata? Lo devo capire! Lo devo capire! Oh, cazzo! Da qui! Allora... 10 unità di erba curativa... Non adesso! Aspetta... Eh... No, non la volevo fare ora... Ok... Esatto... Ehm... Che palla... Dai! Qui giù c'è una chiave d'oro? No... Non l'avevo vista... No, aspetta... Qui su! Ok... 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 Ah... Agli occhiali... Agli occhiali... Allora... Quindi... Devo imparare... Ah... Ma... Non sono... Ah... Ma i miei amici non... Non respawnano... Questo è ottimo! Questo è veramente ottimo! Non tutti, perlomeno... Ok... Allora... Ma perché? No... Devo farla ottimo! Dai! Ok... Che devo fare almeno una cosa per ogni... Ma perché? Non ho la reattività... Per... No, no... C'è un problema, però, eh... Perché... Ciccini! E mi ha preso lo stesso! Vai affanculo, va! Mi prendono lo stesso! Non... Devo capire perché... E... Come... Schipare! E non solo per il troffero, ma in generale! Pensavo di averla padroneggiata! Isto! Ecco! No!